Uomini e donne, Claudio Sona pubblica un libro, La danza del girasole Uomini e donne, Claudio Sona condivide la prima foto del suo libro La danza del girasole. Claudio Sona di Uomini e donne ha pubblicato il suo primo libro, La danza del girasole. Dopo lesperienza nel programma di Maria De Filippi, il primo protagonista del trono gay ha scelto di scrivere un libro, con la collaborazione di una scrittrice, Agnese. Buone notizie, dunque, per i fan di Claudio. Il pubblico ora potrà leggere il primo libro del Sona. E' stato proprio quest'ultimo a rendere nota l'uscita del romanzo attraverso il suo profilo di Instagram. Qualche ora fa, Claudio ha condiviso una sua foto dove lui stesso tiene tra le mani il libro. L'ex tronista ha scelto di scrivere questo romanzo allo scopo di rendere pubbliche le sue emozioni. Tanti sono stati in momenti di difficoltà nella vita di Claudio, il quale ha dovuto anche affrontare il giudizio delle altre persone. Sona vanta all'appoggio della sua famiglia e dei suoi amici, che fortunatamente gli stanno sempre vicino. Questo libro ha come obiettivo quello di rivelare le emozioni che l'hanno portato ad essere quello che è oggi. Il girasole danza alla ricerca del sole, quello stimolo luminoso che gli permette di crescere e di diventare un fiore. Queste sono le prime parole che Claudio ha condiviso su Instagram per presentare il suo libro. Ed ecco che poi l'ex tronista racconta cosa ci dobbiamo aspettare dalla danza del girasole. In questo libro racconterò tutte le emozioni che mi hanno portato ad essere quello che sono. Sono proprio le sensazioni a rivestire un ruolo centrale per Claudio. Nella mia vita il mio sole sono le emozioni e non vedo l'ora di condividerle con voi. Il libro di Claudio Sona, il racconto delle emozioni della vita dell'ex tronista. Il tema principale del libro di Claudio riguarda proprio le sue emozioni. Sona non vede l'ora di sapere dai propri fan le loro opinioni su quanto scritto nel volume. Nel frattempo, anche il pubblico è entusiasta per il nuovo traguardo raggiunto da Claudio. Tanti sono i complimenti che sta ricevendo nelle ultime ore l'ex tronista. Nel frattempo, il suo ex corteggiatore Francesco Zecchini sembrerebbe aver trovato l'amore. Nel frattempo, il suo ex corteggiatore Francesco Zecchini sembrerebbe aver trovato l'amore. Nel frattempo, il suo ex corteggiatore Francesco Zecchini sembrerebbe aver trovato l'amore.